Ciao a tutti ragazzoli e benvenuti in questa nuova puntata di Zero Escape Dilemma Quindi iniziamo andando a continuare da dove eravamo arrivati nella nostra storia Aspettate un attimo che avviamo il gioco Ok Ah si, andiamo avanti in questa storia che ci sta facendo un pochino scervellare Abbiamo detto che il C-Team l'avevamo fatto Quindi o il C-Team o il D-Team Facciamo il D-Team, dai facciamo così, vediamo che succede Ok Andiamo a guardare quindi che succede in questa nuova linea temporale Siamo nel broccio D ovviamente Fatemi sapere la vostra pure qua sotto nei commenti come sta andando secondo voi la serie Se vi sta facendo il gioco se lo prenderete, se ci giocherete, se lo state già giocando Pure se l'avete finito, se avete fatto scelte differenti Quando un curioso hate ozzi calamity Hmm, so, a moment when hate becomes calamity, huh? I wonder what that means? Beats me Maybe it's not supposed to have a meaning Huh? It's an anagram You reorganize the letters into another sentence Why do you think it's an anagram? I've seen something like this before In another place Anyway, where's Sigma? What are you looking at? A box What kind of box? Well, I'm looking into it because I don't know Quindi hanno tutti più o meno questo box Looks like something's written on it Force quit box Hmm, that's interesting I see a keyboard on it too Use this keyboard to input a password and force something to stop Is that what this means? What does it stop? Well, the obvious answer would be the game Zero is making us play Then we should try it I don't think it would be that easy We need a hint Maybe it says something on the underside Nope, won't budge Is it heavy? Heavy doesn't even begin to cover it I doubt it's made out of anything from Earth Well, you are getting up there Sigma What do you say? My body still has it I'll just give it a try You weren't lying See? I told you And we can go wherever we want so long as it's within this ward? Yes, that's what Zero said Come nell'altro capitolo ci sto mostrando le stanze che possiamo visitare Però ora se dico giusto dobbiamo votare Dove mancare poco pure in questa stanza Noi torniamo a quello che abbiamo pensato prima Dobbiamo cercare di far votare un voto per uno a testa Vediamo se arriva il cane in questa porta O non arriva o arriva nell'altro braccio Comunque ora vediamo un pochino come regolarci All right We've checked all the rooms from top to bottom But You didn't find any exits? Obviously We are in a bomb shelter, after all If there were several exits It'd defeat the purpose it was built for So Zero told the truth Then opening the X door is the only way out Mira! Eric! Can you hear me? Kylo's! Akane! Tenmyoji! Ovviamente come gli altri non possono sentire Nell'una e negli altri non si possono sentire Tra loro sono un'interstanda fra Agusticamente buettosa E anche qui ci vogliamo versi delle lettere per dire Yeah, that X-Past thing For every one person who dies One password will be revealed Is that... Why are you trying to die once? I'm politely, but firmly reframing What about you, Diane? Hey! Hey! No! Figure! C'è molto parlato, molto testo, molto... Figure! Ingegno, ci saranno pure inichimi e cose Multipli finali e poi puoi scoprire la verità assolutamente Qua anche abbiamo V-Zero, quindi... Qui do you think Zero is? Do you guys know who Zero is? No, I haven't the foggiest But they called themselves Zero At the very least, they know about what happened a year ago What are you... There's one more thing for sure Think about it Why was Zero's speech to us pre-recorded? There's got to be a very big reason why things can't be in real time There are two possibilities They've already been born Or... Zero is among us Do you think someone will come help us? Like who? Maybe the DCOM experiment staff? Sorry, but that's pretty unlikely Remember? The staff stationed in DCOM can't communicate with us right now The simulation is attempting to stay true to an actual Mars mission It's at least six months between Earth and Mars In that time period, Earth will have rotated halfway around the Sun Which means... By the time the spaceship reaches Mars The Earth is behind it With the star in the way, we can't send a signal That's the lead-up We've been doing experiments for the past five days Transmissions will be re-established on December 31st at 2330 Which leaves us with more than ten hours There's no point in hoping for a rescue to come before that Pretty sure the DCOM staff won't notice any problems until that time It's like a simulation You're totally insane! come una simulazione su marte quindi siamo ogni solo in sei mesi possiamo il giro intorno alla terra non possiamo comunicare si la trama comunque sta andando a piano piano quantomeno a delineare l'inizio il è molto vero di me dire ma l'è la forma che stia parlando è un po' un po' un po' un po è un po' 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 e che sono parlato come back from the year 2074 C'è vero. C'è quello che vedo ciò che succederà in futuro. Abbiamo spento i ultimi 5 giorni assicurando a tutti. Se nulla cambia, l'unica sarà distruttata. Kane, Fai e io infiltrata D-Con per evitare tutto quello che succederà. Perché? C'è vero? Beh... C'è me credere? Se ho detto che era? C'è vero. C'è vero. C'è vero che ci siamo in questo paese? C'è vero il futuro. C'è vero che te avessi? Non abbiamo capito che ci sono in questo paese. Non abbiamo capito che ci si vedono in questo paese. Perché ci sono fatta per me? ... Non ci sono fatta per me? Si dovrebbe essere fatta per me? Quindi lei è un'infermiera come Rebecca e l'ha aiutata a introdurre questo di ComExperiment. Comunque ragazzi se avrei difficoltà magari a tradurre in inglese ve lo fate sapere per i prossimi video e cercherò di tradurre un po' non lettera per lettera, ma di tradurre un po' il discorso in sintesi. Oh ecco il cane, perfetto, colpo di scena, Gabe. Vediamo se c'è il foglietto che l'abbiamo messo. Se noi non l'avamo mandato il foglietto si poteva fare, lo sapete non mi ricordo. Eccolo qua, è arrivato il foglietto, è arrivato. Quindi noi siamo D, giusto? Se non sbaglio. Non vorrei fare qualche cazzata, è votare per il Q-team. Per il C-team. Siamo il D, dobbiamo C. Ovviamente pure in qua c'erano le preoccupazioni come c'era nel primo blocco, se gli altri lo fanno, se gli altri non lo fanno. Quindi se non ho sbaglio, nel menu X. Aspettate al menu, abbiamo scritto cosa fare, se non sbaglio. Vediamo se c'era. Un attivino salvo qua. Ragazzi voglio un secondo così non... Non vorrei fare qualche cagata. Torniamo indietro il memo che c'è uno scritto. Quindi C, Q-team, no C-D, D-Q, Q non per votare C. Dobbiamo votare C-team. No, noi siamo il D-team. Quindi dobbiamo votare il Q-team. Adesso. Q-team, Q-team, Q-team. Perché prima eravamo il C, adesso siamo il Q-team, se non sbaglio. Spero non faccio qualche cagata che mi sto confondendo. Perché qua possiamo votare C-Q-D. Quindi noi dobbiamo votare la Q. La Q dobbiamo votare e la Q vota la C. Quindi dobbiamo votare la Q-team. Perché pure nel file dobbiamo votare il Q-team. Noi siamo il D. E dobbiamo votare il Q. Ok. Ok. Possibilità. Allora, per questo primo round, come ho detto prima, cerchiamo di farli vivere tutti, sperando che gli altri votino come noi. Anche se noi siamo quelli che facciamo la deadline, quindi votiamo Q-team. Allora, per quanto riguarda il Q-team. E' tutto ciò che possiamo fare è trustedli, credo. Ok. Ok, ora praticamente stiamo facendo tutto quello che stiamo facendo con gli altri. Quindi speriamo che questa deadline la facciamo noi, come ho detto prima. Mettiamo tutto come abbiamo detto. E cerchiamo di fare sopravvivere questa prima run tutti Poi si vedrà Nelle altre run se le facciamo Gli altri finali come possiamo farli Quando ti metti in prossimo Vag, chi ha salvato Sarebbe poter ripetere la decisione Come tutti i membri di una sola team Siamo percorrere come risultato Nel film che hai entrato Plecanti sogni Va bene ragazzone se vi è piaciuta pure questa parte Ricordate di lasciare un bel like So che il canale piano piano era più popolato prima Era poi dovuto mollare per lavore e cose Ma sto cercando di recuperare Io vi ringrazio come sempre Di tutto il vostro supporto Anche se è al momento piccolo Ma va benissimo così Come vedete il D-Team non abbiamo più scelto Perché adesso dovremmo usare il Q-Team In pratica Quindi ci vediamo nella prossima puntata Con il Q-Team magari ve la porto direttamente anche stasera Ciao a tutti ragazzuoli